ma come accidenti fanno gli informatici a scaricare sempre i driver giusti senza utilizzare nessun programma esterno e ora te lo faccio vedere ti senti pronto iniziamo probabilmente qualche volta sul tuo computer ti sarà capitato di imbatterti in schermate come questa oppure come questa ebbene quello che significano queste schermate è che al tuo computer è collegata una periferica o un dispositivo di qualsiasi genere che il computer non è riuscito correttamente ad individuare e di cui non ha i driver corretti andiamo a vedere come fare ad identificare correttamente il dispositivo e a scaricare i driver migliori per farlo funzionare e tutto questo come detto senza utilizzare nessun programma per verificare che sul nostro pc siano installati correttamente tutti quanti i driver quello che dobbiamo fare è andare in basso dove abbiamo l'esplora file aprirlo e portarci su questa frecciolina qui in alto clicchiamoci su e scendiamo fino ad aprire il pannello di controllo una volta aperto il pannello di controllo scegliamo visualizzazione per icone grandi in questo modo qui e nella visualizzazione per icone scegliamo la voce gestione dispositivi eccola apriamola e ci verrà mostrato un elenco di tutti quanti i dispositivi presenti nel nostro pc se qualche periferica dovesse avere un problema come vediamo in questo caso gli altoparlanti high definition audio device che presentano questa iconcina che naturalmente ho messo io per simulare una periferica non funzionante le iconcine solitamente possono essere un triangolo giallo e nero con un segno di pericolo oppure un punto interrogativo a seconda dei casi comunque se una periferica come in questo caso ha un problema ciò che dovremo fare sarà semplicemente un click con il pulsante destro del mouse sulla periferica stessa scegliendo quindi la voce proprietà come vedrai si aprirà una finestra che ci indicherà una serie di informazioni su questa periferica quello che ci interessa in questo caso è la scheda dettagli questa qui in alto su cui andremo a fare click vedremo che in questa finestra ci apparirà di default la descrizione del dispositivo che tuttavia non è quella che ci interessa ci basterà cliccare sulla frecciolina per espandere il menu e andare invece a selezionare la voce id hardware ma che cos'è questo id hardware l'id hardware può essere considerato come un numero di targa del nostro dispositivo che ci consente di identificarlo univocamente e di non confonderlo con altri dispositivi simili e questo a sua volta ci consentirà di trovare il driver giusto proprio per la nostra periferica per farlo andiamo a fare un click con il pulsante destro del mouse proprio su questo valore qui e scegliamo la voce copia dopodiché potremo aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare ad incollare la stringa che abbiamo appena copiato fatto questo effettuiamo la ricerca ed ora arriva il momento in cui dovremo stare molto ma molto attenti come infatti ho spiegato in un video precedente che per tua comodità ti lascio qui in alto ci sono molti siti fasulli che offrono dei falsi driver che in realtà si rivelano essere dei programmi perniciosi per il nostro computer come ad esempio può essere questo driver identifier oppure può essere questo drivers collection come faccio a dire a colpo d'occhio che si tratta di siti fasulli è molto semplice i siti che ci interessano sono quelli solo ed esclusivamente dei produttori di periferiche hardware quindi in questo caso ci andrà bene sicuramente il sito dell'intel così come ci potrà andar bene anche il sito della lenovo entrambi produttori di hardware ma se i domini come in questi altri casi faranno riferimento a delle generiche collezioni di drivers sicuramente non ci sarà da fidarsi potremo scegliere uno qualunque dei siti che propongono drivers per la nostra periferica ma meglio ancora se il sito farà riferimento proprio alla marca del computer oppure della periferica che stiamo cercando una volta individuato il sito giusto faremo click su di esso e al suo interno troveremo una serie di link legittimi da cui andare a scaricare i driver che successivamente potremo installare come facciamo sempre per qualsiasi normalissimo programma una volta fatto come vedi la tua periferica godrà di ottima salute ma prima di concludere un'ulteriore importantissima precisazione potrà capitarti andando nella stessa pagina con altre periferiche che individuando l'id hardware ti compaiano più voci ebbene in questo caso la cosa fondamentale è scegliere sempre l'ultima la voce più in basso da copiare e andare a ricercare come abbiamo visto fare poco fa ti garantisco che se utilizzerai questo metodo risolverai tutti quanti i tuoi problemi di driver e non ci sarà più nessuna periferica in grado di resisterti detto questo come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima